Cristiano Verna è un tuo parente stretto, prima della partita ti aveva detto in queste gare che si vedono i veri giocatori oggi hai stretto i denti, non eri al meglio, sei stato se non il migliore in campo, tra i migliori in campo terzo gol in campionato, pesantissimo perché hai sbloccato la partita ma in generale una prestazione sontuosa da parte tua, partiamo ecco dall'individualità e poi ci spostiamo a una grande prestazione di squadra Sì, questa settimana ho passato diciamo una settimana un po' complicata perché sono uscito malconcio da domenica scorsa però c'era bisogno di stingere i denti e l'ho fatto, per fortuna e anche per bavura nostra ho fatto una buona partita e ho segnato anche quindi sono contento Lanciano, si era detto nella lezione scorsa, si avvicinava a un trittico di gare importanti con comunque delle assenze pesanti sul gruppone oggi è stato dato un segnale importante perché non tutte le squadre vincono qui e vincono convincendo come ha fatto il Lanciano oggi e cosa ti aspetti anche delle prossime partite visto che ora avete altre due gare in pochissimi giorni Sì, tre partite difficili perché andiamo a incontrare squadre che fuori casa, cioè dentro casa loro sono ottime squadre come quella di oggi il Cupello che ci ha messo anche in difficoltà in alcuni momenti della partita poi abbiamo la Torrese quindi è un diciamo uno scontro diretto e abbiamo il Delfino Flaccoporto che comunque in casa è una squadra ostica che dobbiamo affrontare questa settimana e cercare di portare più punti possibili a casa, sperando di portare sempre tre punti Cristiano, tu hai trovato l'eccellenza quest'anno come categoria dopo che l'avevi lasciata, se non erro, con un brutto infortunio qualche anno fa un paio o due o tre anni in promozione, l'anno scorso hai fatto la differenza al Lanciano andando anche in doppia cifra considerando la Coppa ti aspettavi un impatto nuovo con l'eccellenza, forse più forte di quello precedente? Sì, perché quando ho lasciato questa categoria non ero io, non ero in forma, venivo da un brutto infortunio e non avevo continuità di allenamento, invece qui a Lanciano sono riuscito a trovare una forma fisica ottima e con questo devo ringraziare anche lo staff e per fortuna adesso mi sento bene e riesco a dare il mio meglio La dedica per il gol la facciamo a chi ha detto questa cosa durante la partita, penso sia abbastanza automatico Sì, la dedico a lui che mi ha portato fortuna visto che sono andato in gol La dedica ovviamente per il padre, per chi non l'avesse capito